Scusa, ho inciampato! Oggi sono così goffa e ho bagnato anche il tuo amuleto! Dammelo, lo porto in bagno e lo asciugo! Adesso basta, Amber, che succede? Che puoi dire? Tu non inciampi mai e inoltre non rovesci mai niente! Per caso stai cercando di prendere il mio amuleto? Ma no! Perché dovrei farlo? Amber, tu stai volando! Lo so! Aiutami! Com'è che il tuo costume ti fa volare? Perché questo non è affatto un costume! È vero! Cosa? Che significa è vero? Non l'ho fatto io il costume! Ho usato un incantesimo di Cedric! Ma è successo qualcosa e ora non riesco a togliere le ali! È come se fossi in parte farfalla! E Cedric dice che per annullare l'incantesimo mi serve il tuo amuleto! Il mio amuleto! Lo so che ti chiedo molto! Più di quanto immagini! Ma lui dice che senza terrò queste ali per sempre! Capisci? Non ho altra scelta! Lo sai, Amber, ho promesso a papà di non togliermelo mai! Amber! Non importa perché ho bisogno dell'amuleto, ora serve a te! Se è l'unico modo per risolvere le cose, allora è tuo! Davvero? Perché dovresti farlo? È ovvio, sei mia sorella! Anche sapendo che non lo riaverai mai? Sì! Andiamo subito dal mago Cedric! No, aspetta! Perché? Non lo trovo giusto! Sono io ad aver mentito e imbrogliato! Non mi sembra tanto corretto che sia tu a pagare per un mio errore, Sofia! Ti ringrazio per l'offerta, ma non posso privarti dell'amuleto! Un beccalegno! No! Torna subito qui! Non voglio più darlo a Cedric! Non obbedisce! Mi dispiace, Sofia, è tutta colpa mia! Riprenderò il tuo amuleto, vedrai! Come? Sta volando via! Ma non è l'unico che sa volare! È più difficile di quanto sembra! Resisti, Amber! Ora vengo ad aiutarti! Puoi volare, ma non puoi nasconderti! Minimus! Devi aiutarmi! Scusa, non ti capisco, Minimus! Beccalegno ha preso il mio amuleto! Ma noi lo riprenderemo! Andiamo! Preso! Ehi! Sofia! Dobbiamo prenderlo! Sta scappando! Forse no! Troppo piccola! Passiamo di là, allora! Quello era un uccello! Quello era un cavallo a volante! Quella era... Ah, a me! Tu vado a quella parte! Io giro di qua e lo intrapoliamo! Spero che funzioni! Oh, c'è no! Amber, prendilo! Preso! Cedi la finestra, Minimus! Ce l'hai fatta, Amber! Ecco, tieni! Grazie! Ma ora come farai a liberarti delle ali? Forse dovresti portare il mio amuleto al mago Cedric! No, c'è un altro modo! No, c'è un altro modo!